Ciao a tutti dalla vostra Miriam, grazie per l'affetto, il sostegno, ma soprattutto grazie per tutti coloro che mi hanno speso del tempo per mandarmi un messaggio, anche per fermarmi i messaggi e per farmi i complimenti. Vi invito a leggere l'intervista che ho appena fatto qui a CityNow, un bacio grande e un abbraccio.